L'ultima volta un team di ragazze ha sfidato il mio team, il team MED Le ragazze in questione erano i Sisa e la mia fidanzata Giada E devo dire, raga, che mi hanno anche spaccato Sto un attimo che... NOOOOO Dopo quel video tantissimi di voi hanno pensato che le ragazze usassero le hack Oggi sono tornato per riavere la mia vendetta, ma soprattutto per scoprire la verità Buongiorno Giada Buongiorno Crazy, sei pronto ad essere sconfitto un'altra volta? Senti, senti, ascolta, non voglio parlare dell'altra volta Ma di sicuro questa volta ti batto io E comunque oggi ti ho chiamato per un semplice fatto Diciamo che io e i miei fan pensiamo che tu hai qualcosa di strano, ecco Perché dite questo e pensate soprattutto a questa cosa su di me? Tu hai iniziato a giocare a Fortnite dieci giorni fa e prima non sapevi neanche premere un tasto Mi spieghi come ora riesci a chillarmi addirittura? Allora, prima cosa tu non mi hai mai visto giocare Seconda cosa io mi alleno tutti i giorni, la mattina, la sera Sempre per diventare più forte Direttore, strano perché la mattina mi sembra che vai a scuola, quindi molto strano Ok, però dopo che vengo mi alleno Ah, ho capito, ho capito, ho capito Senti, senti, dove l'hai lasciata la tua amica Isisa che era qua l'altra volta a difendersi? La mia amica Isisa era impegnata e non poteva venire, ma io ti basso e avanzo per sconfiggerti Ah, addirittura, addirittura, certo Sì, ne sono convinta perché l'altra volta ti ho sconfitto Non è proprio così, ecco Ma guarda, guarda, non puoi poter killare il boss, Giada, cioè il boss è troppo forte Perché, perché, perché invece lo sto sconfiggendo il boss Ma se è troppo forte per te, Giada, scusami, eh Ma stai dicendo? Ma stai zitto, fammi concentrare perché altrimenti io perdo Eh, vabbè, io non ho parole, raga Cioè, ha iniziato veramente, cioè ha conosciuto Fortnite pochi giorni fa E questa adesso pensa di potermi battere Magari sarà stato solo fortuna l'altra volta, eh La verità è che sei molto geloso, hai capito? Perché tu sei troppo moscio, sei troppo lento Non riesci a sconfiggere le persone E quindi ti vuoi vendicare su di me, ma io sono tranquilla Ma come parli, Giada, si dice killare le persone Vabbè, tra poco Ma come la... Ma che... Ok, no, no Giada, ti abbiamo sgamato Guarda! Senti una cosa, allora Dato che tu dici di essere pulita, giusto? Sì, sì, assolutamente Eh, perché non ci fai una bella condivisione schermo Oppure metti la webcam sulle tue manine? Vabbè, dai, adesso pretenni troppo, però Io devo giocare, non posso stare con te a farti vedere le mie mani Cioè, o ti fidi o ti fidi e basta Ah, certo, mi fido o mi fido Cioè, che senso ha? Eh, ma perché ci sarebbero problemi per te? Fammi capire Non ci sarebbero problemi, però mi dà fastidio che non mi credi Ah, ti dà fastidio, certo, certo Non ti credo e basta Quindi, ce la fai questa condivisione? Oppure questa webcam sulle mani? Che dici? Mi stai facendo incavolare? Perché credi che io sono fragile e che non riesco a sconfiggerti? Scusa Mica puoi essere sempre tu quello più forte Che cazzo stai dicendo? Giada Io guarda, te lo dico chiaramente No, no, non ti piacciono le sconfitte? No, 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 te lo dico chiaramente Secondo me, secondo il mio modesto parere Tu usi le hack Non è vero! Io voglio sapere, ma come ti permetti a dirmi una cosa del genere a me? E cioè, certo che mi permetto No, non ti devi permettere assolutamente, perché tu non sei nessuno, hai capito? Ma certo, certo, raga, secondo me questa qui usa le hack, eh? Però non lo so, non lo so Oh, c'è uno, c'è uno, crazy! Ma guarda come pusha! C'è uno! Ma no, ma Giada, ma dai, Giada, tu non sei così brava, dai! Ma guarda come pusha! Aspetta, 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 aspetta! Ok, c'è un altro, c'è un altro! No, vabbè, no, vabbè Sì! No, 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 vabbè Ma raga, ma come fai, Giada? Dai, fammi vedere come killi, dai! Aspetta, aspetta, ok, 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 ok No, 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 no Giada, per favore, mirami, mirami, mirami Aspetta, c'è uno, c'è uno, c'è uno, c'è uno, c'è uno No, vabbè, raga, se fa la terza kill, ricordi Io, ok, 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 l'ho craccato, perfetto Ma come fai a sapere sti termini? Ma Giada, ma tu non... Eh, ma scusa, gioca a Forra, ti è ovvio che devo sapere anche i termini No, vabbè, no, vabbè, no, vabbè, raga, tre kill Giada, vieni qua, Giada, vieni qua Aspetta Vieni qua, Giada, Giada, quale hack utilizzi? Nessuna Giada, quale hack utilizzi? Sono le mie mani, sono le mie mani Giada, quale hack utilizzi? Smetti, per favore Fammi vedere le tue hack che utilizzi, che sei uno scarso Raga, mi sono in questo momento mutato Adesso io mi suicido e l'aspecto Perché questa qua, raga, mi puzza assolutamente E non è normale la cosa Giada, vieni qua che Giampia... Oh, no! Cazzo, sono caduto Ma che fai? Ma che fai? No Famori così facilmente Aspetta che vengo No, no, vabbè, lascio stare, non mi curare, dai Tanto c'è la safe, credo Ormai sono qui No, vabbè, ma non curarmi, dai, non ti preoccupare Non ti preoccupare Ok, adesso vediamo Giada Giada, ti sto aspettando in questo momento, eh Ma vediamo cosa sei fare Va bene, ok, aspetta Aspetta che sto uccidendo uno Ma raga, ma non ha senso No, io sono proprio curioso di vedere Giada Cioè, raga, ve lo giuro, raga Ok, ok Madonna mia, questo di qua proprio non vuole morire Eh, va bene, a tre, qualche altro Ok Raga, ve lo giuro, io conosco la mia ragazza Raga, una volta ha provato a giocare a Fortnite Non è così brava Giada, mi senti? Sì Giada, Giada, ma come fai? Mori, mori, mori Giada, ma come fai? Giada, l'hai laserato No, vabbè, no No, 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 no Giada, non sei tu Giada, non sei tu Giada, o non sei tu oppure No Ma non è vero, Giada Tu non so Non è vero Sei giusto un secondo Quindi devo avere concentrazione Perché mi sto uccidendo veramente troppi Ahia, ti hanno fatto male qua, eh Eh sì, eh sì, e non c'è nessuno che mi guarisce Cosa stai dicendo? Come nessuno che ti guarisce, Giada? Tu sei morto come un cretino Ma non sai manco giocare a Fortnite Dai, smettila Vediamo, vediamo che combina Vediamo che combina Oh, ma come? Come l'hai killato, Giada? Come l'hai killato, Giada? Con le mie mani, con le mie abilità Ok, signori, io non sto scherzando C'è qualcosa di veramente, ma veramente molto strano qua, eh Questa qua sta nascondendo qualcosa Sì, vabbè, dai, dai, dai Io vi giuro, raga, che se la vince Le scioppo 13.000 bubba L'hai detto, l'hai detto? L'importante è che l'hai detto Ma non devi vincere I dati a preparati No, non devi assolutamente No, vabbè, raga, no, vabbè Non può vincere solo B2 Raga, non può vincere solo B2 È impossibile, è impossibile Sì Ma come fai? Ok, ma manco io riesco, dai Ma in tutto questo hai 5 kill Guarda Cosa fai? Cosa stai facendo? Sto prendendo le spalle Che sto facendo? Ma perché non lo killi? C'è il momento giusto Per capire Ma che cazzo? Giada? Perché non l'hai killato? Giada? Vuole morire questo bastardo Giada! 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 Non gli partivano le hack! Giada! Sì, vabbè Giada! Ti ho visto! Ma cosa mi hai visto? Impossibile che mi hai visto Giada! Non gli partivano le hack! Ma non è vero Perché stavo facendo l'arma Che si era scaricato Sì! Si era scaricato No! L'ho beccata! L'ho beccata! Giada! Hai volato! Hai volato? Hai volato! Sì, sì Ho volato Giada Ma cosa dici? Che ho la corda là Per tirarmi Giada 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 Hai volato Giada Giada Ti sei bugga Giada Mi favo le ali Giada Prima non hai sparato Giada Ma cosa dici? Hai le hack! Madonna mia Non ti sopporto più Che tira 20 Ma come lei Ma guarda Guarda quanti 23 Dai Giada 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 Smettila Giada Tu devi ammettere di avere le hack Giada L'altro 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 Sì Sì Ma che hack hai? No, 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 no Ormai ti abbiamo sgamato È inutile Giada ti abbiamo sgamato Non ci credo Guarda Guarda No Ma prende le persone Le laser Le sciotti 10 kill 10 kill Non ho mai fatto 10 kill Stati Scarsi Che è colpa mia Scusa Ma cosa? 11 kill Mi sto sentendo male Io mi sto sentendo male Io mi sto sentendo male Io raga Io mi giuro Raga Io mi sto sentendo male Sono tutto sudato Ve lo giuro La mia ragazza Usa le hack Che sono for right Non è vero Lo vuoi smettere Non è vero Mi stai completamente staccando Non è vero Ti guarda Ma no Ma no Ma no Raga mancano 4 persone Già da 11 kill Guarda qua Guarda qua Vedo le persone Spara Vedo le persone Spara Non ha senso Raga Guarda No 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 Guarda No 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 Terza Si è arrivata Terza Solo perché ti ha pusciato Perché da lontani Le laseravi Le persone Già da Sono morto Perché mi hai distratto Basta Basta Non si sopporto più Mi ho fatto perdere Per colpa tua A questo punto raga L'ho sfidata in 1v1 E guardate cosa è successo Vediamo che stai fare Vieni Vabbè Dai Sì Vabbè Vabbè Già da Hai giocato a due giochi Da dieci giorni Come hai fatto Già da Hai visto Hai visto Te l'ho dimostrato Che sono forte Adesso mi credi Raga sono caldissimo Sono al massimo Delle potenzialità Non mi può chillare Raga Almeno che non algerà Non mi può chillare Sono fortissimo Sono caldo raga Oh E vabbè No 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 vabbè Già da Già da Ascoltami bene Già da Oh tu Confessi di avere le hack Oh io qui davanti a tutti Rivelo il tuo più grande segreto Ma scusa Perché 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 Già da Già da Io non ho fatto niente Va bene Ok allora io confesso il più grande segreto Ragazzi Dovete sapere No 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 Verbo Ok lo ammetto Ragazzi Ho usato le hack Però non erano così forti No Che infame Ti dimostrerò che anche io sono forte Dato che non mi credi Ho utilizzato le hack Soltanto per agevolarmi All'inizio Però te lo dimostrerò Stai zitta Era normale raga Non sapeva manco muovere No questo no Questo no Perché io so muovermi Anche bene Sì No No Lo No No No